Trasferta romana per l'amministrazione comunale di Omenia. Nella giornata del lunedì, in effetti, gli assessori allo sport Francesco Perone e dai lavori pubblici Stefano Strada, accompagnati dal funzionario del comune Piero De Lucia, si sono recati nella sede romana del Coni per presenziare alla prima cerimonia per le città europee dello sport del 2019. Nella sezione Town, insieme ad Omenia, hanno vinto le città di Livigno, Sesto Calende e Chianciano Terme. I sindaci di queste città, ha sottolineato l'assessore allo sport Perone, saranno a Omenia il prossimo 12 gennaio per il via ufficiale della nostra programma. Ci sono già diverse iniziative in cantiere per quanto riguarda il nostro comune, ad esempio il Giro d'Italia delle macchine elettriche sponsorizzato Bosch Italia che toccherà anche Omenia. In quel giorno ci saranno degli incontri nelle scuole superiori, ma anche in quelle inferiori con campioni dello sport a quali Claudio Chiappucci e i calciatori Daniele Massaro e Torricelli che spiegheranno ai giovani l'importanza della pratica sportiva e della cultura sportiva. Grande l'emozione di fronte al presidente del Coni Malagò per gli amministratori omenesi. Non capita tutti i giorni di essere a Roma, ha concluso Perone, e per noi è stato davvero un grande orgoglio. Ora il prossimo step sarà a Bruxelles, al Parlamento europeo, il prossimo 4 dicembre, quando ci sarà consegnata la bandiera europea.